L'inizio della scuola russa, perché proprio dal teofano greco si passa ad Andrei Rubiov Ed essenzialmente noi dipingiamo così come dipingevano noi anche se la nostra Madonna lo diceva di scuola bizantina solo del XII secolo Anche per esempio se voi vedete dei film degli extraterrestri, non so, Asi, Pioetti, Cocoon, voi vi immaginate come la cinematografia si immagina un corpo extraterrestre Se lo immagina, per Pallos, guardate che fa luce, una sorgente luminosa troppo intensa ci abbaglia, per cui noi vedremo un disco nero se guardiamo il sole Con un'irradiazione tutta esterna che è la sua corona, per cui troviamo una macchia di luce nera con un'irradiazione di bianco sforzato E nelle gole c'è lo stesso concetto, vedete, questi fondi molto scuri che noi vi abbiamo dato sono così perché il nostro occhio viene abbagliato dalla luce Quindi voi li dovete immaginare tutti completamente luminosi E in alcune zone questa luce è ancora maggiore perché sono tutti quei punti in cui lo scheletro, a causa dell'anatomia particolare di come è fatto Il punto in cui tocca di più la pelle e la tira, in trasparenza, la noce nesce E vedete che sono sempre esattamente gli stessi punti A pagina 291 vi ho fatto una tabella con scritto dove sono i punti di massima radiazione E sono sempre, sempre quelli, cioè in qualunque icona voi prendiate, sono sempre nello stesso posto Esattamente, allora adesso lo diciamo dall'alto in basso, lo vedete, qui in questo caso Centro dei lovi frontali Qua Abbiamo anche un muscolo che si chiama approcciaro Che determina tutta la gestione delle nasi Abbiamo un muscolo per così, abbiamo un muscolo frontale così Abbiamo due muscoli qua delle sopracciglia, qui abbiamo un terzo muscolo approcciaro Quindi qua c'è una viattura a tre muscoli, vi vedete, e oltretutto il cranio ha un coniato qua Per cui questo punto è un punto di massima luce L'altro sono le arcate sopraccigliare, cioè queste Questi modelli molto spesso sono un po' rotti Qui dobbiamo immaginare che fosse di questa intensità Poi dopo, soprattutto, gli occhi, allora gli zigomi La demarcazione intera della cavità brutale, cioè questo punto Il naso ha come un triangolo superiore, sopra, vedete, la canna, lo sviluppo centrale E poi una cosiddetta oliva alla fine Poi dopo, la demarcazione della narizia, a questo punto anche La bocca invece ha sempre la stessa zona, la zona sopra la narizia superiore, cioè qua La linea di demarcazione fra le due labbra, e poi c'è l'imento Le orecchie qui sotto, zona superiore del logo, il collo, zona seguente l'ombreggiatura del volto, cioè questo punto qui Se va un po' più in giù, clavicola esterna Allora, per esempio, quella Madonna, lo vedete, vedete là C'è questo punto di demarcazione Poi sotto, il punto in cui la clavicola si appacca E se va un po' più in giù, lo sterno, c'è questo punto Tutte queste parole sono parole che sono state tradotte nel corso degli anni Da maestri russi che venivano in Italia Cercando di capire con il nostro vocabolario Come si poteva tradurre alcuni termini russi Alcuni non sono mai stati tradotti, per esempio l'assist Con le linee d'oro, con l'usame termini russi attualmente Allora, loro sono sempre coppie E' molto importante che sono coppie Adesso ce n'è un primo tratto che si chiama dominante E c'è un secondo tratto che lo accompagna che si chiama relativo Questo è sempre più piccolo Adesso, 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 adesso Grazie a tutti.